Sono Lucrezia Ricchiuti, 56 anni, sposata, due figli e una laurea in scienze politiche. Sono stata per molti anni consigliere comunale all'opposizione ad Esio. Nel 2010 il mio comune si è autosciolto sulla scia delle indagini svolte dalla magistratura su infiltrazioni mafiose in città, stretta nella tenaglia dei clan calabresi e di una politica di rapina. Il sistema di loschi interessi che io per anni avevo denunciato pubblicamente è stato quindi ufficialmente scoperchiato. La denuncia dell'abusivismo edilizio, del consumo sistematico di suolo a favore della speculazione edilizia, delle discariche abusive presenti sul territorio e del sistema di interessi legati all'edilizia sono state le battaglie politiche che ho sempre portato avanti con ostinazione, battaglie che hanno contribuito alla vittoria ad Esio, nelle elezioni del 2011, di una coalizione guidata dal mio partito, il PD. Attualmente ricopro la carica di vice sindaco con delega al bilancio e al controllo del territorio. La pervasività delle mafie non è solo un problema di Esio, ma di tutto il Nord Italia. La lotta contro le mafie e la corruzione deve entrare ora e con assoluta priorità nell'agenda politica del Parlamento, che si insedierà nel febbraio del 2013. Solo così potrà essere data all'Italia una speranza per risollevarsi. È per questi temi che intendo battermi e quindi mi sono candidata alle primarie del 29 dicembre.